Direi che ci siamo tutti, siamo pronti a iniziare. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. L'appuntamento di oggi fa seguito a un percorso che Confaricoltura ha avviato ormai da tempo e che ha visto protagonisti, Confaricoltura stessa e il meeting insieme lo scorso anno, in una circostanza che ha visto nuovamente al centro la sostenibilità di un dibattito che ha avuto un seguito importante ed è per questo che siamo qui anche quest'anno per riprendere le file e fare un punto su questo percorso. Un percorso che nasce dalla volontà forte di Confaricoltura di mettere al centro dell'attività a livello confederale e anche di valorizzare l'attività delle imprese associate che riguarda la sostenibilità to cure, quindi dalla sostenibilità ambientale a quella sociale una sostenibilità che chiaramente può far rima e far rima con produttività. La prerogativa è quella di produrre in maniera sostenibile ma tenendo conto ovviamente dei criteri economici. Alla luce dell'Expo è una sfida che si è fatta sempre più importante, si è fatta crescente, si è fatta incombente ed è per questo che l'incontro di oggi che appunto è dedicato come vedete alla sostenibilità sociale, quindi un'agricoltura che sia responsabile e che parli di esigenze dell'uomo e delle comunità e che metta quindi al centro l'uomo senza dimenticare il criterio produttivo. È nata da questa forte volontà della Confederazione, è nato un progetto che si chiama EcoCloud che è stato presentato appunto lo scorso anno, ha avuto come seguito la presentazione, la scrittura, la nascita, il pensare insieme anche alle imprese un manifesto che è stato recentemente presentato che è appunto il manifesto di EcoCloud che stila una serie di criteri ai quali le aziende si devono attenere per comportarsi, produrre e performare in maniera sostenibile e oggi siamo qui con protagonisti chiaramente del tessuto imprenditoriale, il tessuto sociale, il tessuto istituzionale per dire cosa significa sostenibilità sociale e in che direzione va appunto la direzione tracciata nel solco della tradizione ma che guarda fortemente a un'innovazione che ha come partenza ma anche come arrivo per certi versi l'appuntamento di Expo. Faccio questa introduzione, purtroppo il Presidente Guidi non può essere presente per impegni di carattere istituzionale e di conseguenza inizierei rispettando il programma che ci siamo dati e cercando ovviamente di stare nei tempi che sono fortemente considerati qui in questo contesto e quindi puntualità deve far rima con produttività e anche con sostenibilità e partirei passando la parola a Lucia Bagiamonte che è una ricercatrice dell'Inea e ci parlerà di sostenibilità, come vedete responsabilità sociale ed impresa nel sistema agroalimentare quindi cosa significa essere sostenibile e cosa significa comportarsi in maniera sostenibile. Grazie. Se possono partire le slide così io magari... Intanto un veloce ma sentito ringraziamento a Confagricoltura per aver organizzato questo evento e per averci invitato come Enea a parlare di responsabilità sociale ed impresa nell'agroalimentare un tema che mi sta molto a cuore e di cui mi occupo per l'Enea da diversi anni dal 2006 quando il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ci chiese di inquadrare che cosa significa responsabilità sociale per l'agroalimentare. Ammetto che è un tema abbastanza particolare, anche difficoltoso, le tre parole responsabilità sociale ed impresa creano problemi a non pochi nel senso che spesso si confonde con l'agricoltura sociale di cui si parlerà dopo. La difficoltà si ha anche dal fatto che per diversi anni non c'è stata una definizione univoca ufficiale se non nel 2001, quindi io parto proprio velocemente, senza tediarvi troppo, dalla definizione questa che vedete alla destra è la definizione che nel 2001 venne proposta dalla Commissione Europea nel primo libro verde proprio sul promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese. vi ho messo a confronto le due definizioni, quella del 2001 e quella del 2011, l'ultima comunicazione della Commissione quindi passano dieci anni, dieci anni in cui cambiano diverse cose, in cui ci sono diverse esperienze in cui sia il mondo imprenditoriale ma anche il mondo istituzionale si rende consapevole di cosa significa responsabilità sociale per le imprese e poi vedremo per l'agroalimentare in particolar modo passano tanti anni, tante esperienze, tante esperienze a livello istituzionale, a livello di Ocse, a livello di Global Compact delle Nazioni Unite, a livello di gruppi multi-stakeholder che si uniscono proprio per lavorare in quest'ottica e del consumatore che come vedremo successivamente diventa sempre più sensibile a questi temi quindi la responsabilità con la nuova definizione data dalla comunicazione del 2011 della Commissione Europea che cerca di semplificare la prima definizione è la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società quindi riguarda in qualche modo l'impegno che le imprese devono assumere che va oltre gli obblighi di legge quindi uno non è socialmente responsabile perché adempi a tutte le normative, a tutti gli obblighi di legge la responsabilità sociale inizia quando io ho adempiuto a tutta la normativa, a tutto ciò che il mio settore produttivo prevede le due definizioni hanno in qualche modo degli elementi che molto velocemente vi elenco in comune innanzitutto la volontarietà ed è stato forse una delle motivazioni per cui non ha tanto preso piede la responsabilità sociale soprattutto nei primi anni. Non può essere sicuramente uno standard, non può essere una certificazione quindi è un fatto lasciato alla volontà dell'imprenditore e delle istituzioni tant'è che nel 2010 con l'approvazione delle ISO 26000 che per la prima volta non sono una norma di certificazione ma è proprio una linea guida sulla responsabilità sociale, si parla di responsabilità sociale delle organizzazioni ma la stessa commissione nella comunicazione del 2011 parla di impatto dell'impresa cioè di compito dell'impresa nel preservare l'ambiente, nel preservare la comunità sociale in cui opera quindi teniamo conto che alla base della responsabilità sociale c'è il triplice approccio quindi l'aspetto economico, l'aspetto sociale e l'aspetto ambientale, lo vedremo meglio dopo quindi insomma tu ognuno deve fare la sua parte, le imprese ma così anche le istituzioni a me piace anche dirlo in termini un po' più concreti con una frase di uno dei casi studi che eseguimmo nei primi anni in cui abbiamo iniziato a occuparci di responsabilità sociale il nostro capolavoro non è il prodotto, io direi nell'agroalimentare è sicuramente il prodotto perché la qualità, la salubrità del prodotto essendo un alimento, essendo qualcosa che ingeriamo deve essere garantito sicuramente ma è come l'abbiamo ottenuto l'attenzione cresce soprattutto sulla modalità di ottenimento del prodotto quindi la sfida dell'agricoltura ma di tutto il mondo produttivo è proprio la modalità con cui i prodotti vengono ottenuti, quindi maggior cibo nel caso dell'agricoltura ma con meno spreco di risorse naturali, meno utilizzo di prodotti chimici più attenzione alle proprie risorse umane che si hanno all'interno meno impatto socio-ambientale perché negli anni la responsabilità sociale è diventata così importante? molto velocemente, sicuramente la globalizzazione dei mercati sicuramente la maggiore attenzione per i diritti umani gli scandali, i fallimenti pensate a tutte le crisi che ci sono state a livello economico ma nell'agroalimentare e quindi di conseguenza la maggiore sensibilità da parte del consumatore quindi il cosiddetto consumo critico quindi il consumatore che è attento a quello che va a richiedere dal punto di vista invece microeconomico diversi sono i moventi che in qualche modo spingono le singole imprese a occuparsi di responsabilità sociale a seguire un percorso di responsabilità sociale cosa che come vedremo subito dopo nell'agroalimentare spesso si fa ma lo si fa in modo consapevole quindi sicuramente il primo passo è rendere consapevoli gli imprenditori che determinate azioni che stanno facendo rientrano nell'ambito della responsabilità sociale quindi si va dalla reputazione, dal rafforzamento dell'immagine alle buone relazioni sia con la pubblica amministrazione con tutti gli stakeholder del territorio in cui opera al maggiore senso di appartenenza dei lavoratori di tutte le risorse umane che operano nell'azienda la responsabilità sociale anche nell'ultima comunicazione della commissione è sicuramente un elemento di competitività quindi è l'elemento che riesce a coniugare produttività e sostenibilità nell'ottica della competitività sicuramente il settore agricolo per le sue specificità è un luogo privilegiato sicuramente per favorire l'adozione di scelte di comportamenti, di approcci alla responsabilità sociale quello che probabilmente ancora non è chiaro è il come comportarsi, come agire e quali sono le azioni che appunto rientrano nella responsabilità sociale quello che è chiaro è che sicuramente il sistema agroalimentare ha un ruolo centrale nella società sia nel creare valore perché nel caso della responsabilità sociale si parla di creazione di valore e non di puro profitto ma anche perché ha una serie di influenze per la salute pubblica il benessere e la qualità della vita lo sviluppo economico, la biodiversità quindi il rafforzamento di un approccio alla responsabilità sociale per tutti i problemi legati all'alimentazione per la crisi di fiducia dei consumatori e per la maggiore sensibilità al prodotto che si va a utilizzare è diventato sempre più importante nell'agricoltura le imprese agricole in qualche modo già svolgono anche se inconsapevolmente azioni di responsabilità sociale proprio perché svolgono oltre alla funzione economico-produttiva una serie di altre funzioni di salvaguardia dell'ambiente di valorizzazione degli spazi rurali di valorizzazione delle tradizioni e via di seguito abbiamo detto che la responsabilità sociale è un fatto volontario quindi non può essere diciamo uno standard non c'è un disciplinare da seguire per cui bisogna fare prima una cosa poi l'altra e poi l'altra ancora quindi una delle difficoltà è proprio capire che cosa sta dentro io ho provato a mettere qui una serie di azioni che possono rientrare nella responsabilità sociale alcune delle quali sono presenti anche nella roadmap per la sostenibilità presentata agli stati generali della Green Economy non ve li lascio insomma tra i materiali non ve li sto a elencare ma sicuramente molte di queste azioni vengono portate avanti dalle imprese agricole alla luce di questo l'INEA richiesta del Ministero delle Politiche Agricole come vi dicevo dal 2006 ha iniziato questa attività sulla responsabilità sociale cercando innanzitutto di capire che cosa che cosa significava per l'agroalimentare quindi di coniugare il concetto di responsabilità sociale all'agroalimentare e quindi cercando negli anni di promuovere e diffondere la cultura di responsabilità sociale attraverso la propria attività l'Istituto Nazionale di Economia è un ente pubblico di ricerca quindi fa attività di studio di assistenza tecnica ma quindi di promozione e divulgazione delle attività che segue quindi il primo passo è stato mettere a punto delle linee guida di settore per capire che cosa stava dentro cosa stava fuori della responsabilità sociale nel sistema agroalimentare linee guida che sono accompagnati da casi aziendali quindi da degli esempi concreti di aziende che quindi già anche spesso in modo inconsapevole hanno avviato un percorso di responsabilità sociale quindi non sono linee guida calate dall'altro ma sono linee guida che abbiamo messo a punto con un approccio partecipato con tutta una serie di stakeholder del settore agroalimentare negli anni abbiamo fatto una serie di approfondimenti tematici sul tema stiamo portando avanti delle attività dedicate seguendo da vicino anche delle attività delle aziende vi parlerò molto velocemente dopo di un laboratorio del primo laboratorio sulla responsabilità sociale nell'agroalimentare che è nato in Basilicata quanto tempo ho? ancora qualche minuto sì considerato possiamo partire un po' in ritardo chiudo velocemente ok allora solo velocemente per dirvi che vi rimando alle linee guida sia per quanto riguarda la griglia di autodiagnosi che è una griglia di valutazione con cui le aziende possono valutare il loro percorso di responsabilità sociale e le aree che secondo noi possono sviluppare azioni di responsabilità sociale quindi il territorio è inteso come comunità territoriale non tanto come luogo grafico l'ambiente il prodotto le risorse umane l'approccio multi stakeholder è il triplice approccio che sta alla base della responsabilità sociale ve lo mostro velocemente visto il tempo tutto questo per dire che sicuramente la responsabilità sociale può fare da collante tra le imprese e il territorio in cui vanno ad operare gli stakeholder locali se si mira a uno sviluppo sostenibile del territorio questo perché la responsabilità sociale ha alla base la creazione di valore non tanto di profitto ma di valore di valore condiviso quindi un'impresa che va in questa direzione sicuramente ha una garanzia di successo duraturo sul mercato questi sono i benefici solo velocemente per dirvi che anche a livello istituzionale non solo a livello di imprese e sono molte vi assicuro le imprese che hanno intrapreso percorsi di responsabilità sociale vi sono tutta una serie di iniziative che stanno valorizzando questo tipo di approccio l'Inea partecipa a molte di queste iniziative al punto di contatto nazionale per le linee guida dell'Ocse sulla responsabilità sociale presso il Ministero dello Sviluppo Economico la Commissione Europea ha richiesto un piano di azione sulla responsabilità sociale a tutti i suoi stati membri responsabilità sociale e diritti umani l'Italia ha prodotto il primo piano di azione sulla responsabilità e consegnato il primo piano di azione sulla responsabilità sociale e c'è stato anche un incontro con la Commissione Europea lo scorso anno per presentare questo con quattro stati membri e alcuni stati che sono venuti ad ascoltare il percorso che come Italia avevamo fatto è stato redatto anche il piano di azione sui diritti umani partecipiamo al comitato interministeriale dei diritti umani al Global Compact delle Nazioni Unite il Ministero degli Esteri ha chiesto di presentare le linee guida di settore sulla responsabilità sociale e cito solo velocemente due attività che in questo momento stiamo facendo poi chiudo e un progetto interregionale mi sembra importante citare questo progetto e il laboratorio sulla responsabilità sociale velocemente il progetto interregionale mi premeva citarlo perché per la prima volta si sono messe insieme 16 regioni tre ministeri il Ministero del Lavoro il Ministero del Sviluppo Economico il Ministero delle Politiche Agricole INEA per cercare un linguaggio e un percorso comune nell'ottica della responsabilità sociale questo gruppo ha in qualche modo un duplice obiettivo da un lato aumentare la diffusione dell'approccio alla responsabilità sociale per le imprese quindi renderle consapevoli del percorso che fanno o che possono fare e dall'altro avviare un approccio formativo culturale anche per per la stessa pubblica amministrazione che in qualche modo pensate a tutti i PSR a tutti i fondi che verranno anche nella nuova programmazione ridistribuiti abbiano una sensibilità nel premiare le azioni che in quest'ottica vengono portate avanti molto velocemente un'iniziativa che stiamo facendo attualmente in Basilicata e questo primo laboratorio sulla responsabilità sociale d'impresa che ha cercato di valorizzare quello che in quell'area in quest'ottica aveva c'era già quindi di sfruttare le potenzialità per uno sviluppo sostenibile di quel territorio laboratorio perché permette dialogo coinvolgimento collaborazione infatti tra i risultati io li ho divisi in prodotti tangibili e intangibili secondo me il risultato per eccellenza è il piano di azione che io definisco dinamico sulla responsabilità sociale ma il vero risultato sono i risultati intangibili cioè dal momento iniziale in cui le imprese in qualche modo non sapevano che cosa li stavamo proponendo a cosa andavano incontro e invece ha un entusiasmo poi nell'impegnarsi in questo tipo di azioni e nella consapevolezza delle azioni che loro stavano portando avanti in quest'ottica solo per concludere che ovviamente quanto detto sulla responsabilità sociale è assolutamente in linea con gli obiettivi di Europa 2020 e gli obiettivi inseriti nei piani di azione regionale grazie grazie a Lucia Briamonte apprezziamo anche lo sprint finale per venirci incontro che ha detto le cose molto interessanti grazie mille parliamo di sostenibilità esiste quindi una sostenibilità sociale c'è quindi anche un'agricoltura sociale perché praticando la sostenibilità su questo fronte ha diversi spunti da fornire quindi passerei la parola a Marco Berardo Di Stefano che ci parlerà per l'appunto di agricoltura sociale cos'è e cosa fa grazie buonasera sono Marco Di Stefano presidente della rete fattorie sociali la rete fattorie sociali è una rete in cui le principali organizzazioni agricole le associazioni di consumatori e le associazioni di familiari di persone con disagio si sono riunite per promuovere l'agricoltura sociale in Italia che cos'è l'agricoltura sociale ora vi mostrerò un filmato che è un filmato di una delle tante fattorie sociali che ci sono in Italia che mi aiuterà a spiegare meglio di che cosa stiamo parlando se fosse possibile mandare il filmato per favore disabili disabili mi adora Miledi ed è sempre la prima a prendersi cura del poni e poi Giovanni tra i soci fondatori della cooperativa il cui compito è accompagnare alla stazione i ragazzi che vengono da più lontano la cosa la cosa che ti dà la cosa che ti dà più soddisfazione qual è fai verdure il cassettamento i melenzane mi piacciono tanto da mangiare però da mangiare e da fare pure giovedì viene il vetrinaio e facciamo lezioni di punture per fare star bene la mucca o la bufala questi ragazzi disabili mentali o fisici fanno di tutto con precisione ed entusiasmo lavorano la terra badano gli animali si occupano della gestione dell'azienda che si sostiene con la vendita dei suoi prodotti dall'olio alla frutta e verdura dalle mozzarella al vino tutto è rigorosamente biologico la nostra è un'impresa sociale per cui lo scopo che noi ci proponiamo è quello di creare attraverso dei modelli economici e sociali nuovi di dare delle occasioni a chi ne ha avuto apparentemente di meno dalla vita di aspirare come tutti ad una vita normale e di fatto questa impresa annulla il disagio assistiti da psicologi ed esperti i ragazzi frequentano un corso di formazione che dura due anni al termine dei quali acquisiscono tutte le competenze necessarie per lavorare in un'azienda agricola ma quel che è più importante mentre prima la vita era semplicemente la quotidianità e la quotidianità poteva essere un televisore o un centro di urno o anche altre cose che comunque fanno bene alle persone disabili o ai pazienti psichiatrici quando si arriva qui si comincia a pensare in prospettiva a pensare al futuro in questa biofattoria modello di economia solidale molto apprezzato perfino in Giappone la parola d'ordine quindi non è assistenzialismo ma solidarietà tutti vengono retribuiti imparando così a gestire anche i loro guadagni beh più o meno e con i soldi che fai poi che ci compri comprare tutto vai tutto o tu ti piace tutto sì certo si lavora in gruppo e dopo quando il giorno è traschezzato si scherza nel momento da lavorare si lavora non imparano solo un mestiere nei campi i ragazzi socializzano litigano si aiutano tra loro nascono amore e amicizie la normalità qui sembra davvero a un passo noi sappiamo istintivamente senza leggere grandi dattati che la natura fa bene alla salute chi una mamma che vuole fare un papà che vuole fare qualcosa di buono per il figlio lo porta a fare una passeggiata in mezzo al verde quindi la natura accoglie tutti da quando è nata sei anni fa la biofattoria solidale ha dato lavoro stabile ad una quarantina di persone tra cui 15 corsisti soddisfattissimo Giovanni diventato socio da appena qualche giorno intanto fervono i progetti uno fra tutti l'agriturismo dove tempo pochi mesi sarà possibile gustare questi prodotti dalla genuinità antica per adesso si possono acquistare anche via internet cliccando sul sito www.fattoria solidaledelcirceo.com ecco questa è l'agricoltura sociale questa è una delle fattorie sociali che ci sono in Italia più avanti ci saranno delle altre testimonianze in questo caso nella fattoria vengono occupati ospitati ragazzi disabili e pazienti psichiatrici in altri casi persone che hanno altro tipo di disagio signore vittime della tratta ex detenuti persone che hanno avuto problemi di tossicodipendenza o altro la rete fattorie sociali in questi anni si è occupata di promuovere l'agricoltura sociale e di far sì che acquistasse una rilevanza anche normativa a livello nazionale ed è stata votata presso la Camera dei Deputati la legge nazionale sull'agricoltura sociale il 15 luglio quindi è una cosa molto recente come presidente della rete devo dire che la commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha sempre prestato grande attenzione alle istanze degli operatori di questo mondo per cui la legge che è stata votata alla Camera non è un vestito calato dall'alto ma è frutto di un confronto costante per arrivare effettivamente ad avere una norma che potesse essere di sostegno e che permettesse lo sviluppo dell'agricoltura sociale ora nel proseguo del mio intervento evidenzierò nella legge che è stata approvata alla Camera quali sono i punti più importanti di questa legge in relazione all'agricoltura sociale allora ecco fino a qualche giorno fa se avessimo parlato di agricoltura sociale ci sarebbero state una serie di definizioni tutte quante vere ora esistendo una legge nazionale c'è una definizione univoca per cui andiamo verso un'omogeneizzazione di quella che è la definizione di agricoltura sociale le foto che vedrete nelle slide sono foto di fattorie sociali che sono in varie parti d'Italia allora di che cosa si parla quando si parla dell'agricoltura sociale allora si parla di agricoltura e si parla di multifunzionalità delle imprese agricole finalizzate allo sviluppo di interventi e di servizi sociali sociosanitari educativi e di inserimento sociolavorativo io chiaramente tratterò soltanto le cose salienti non è possibile in questa sede entrare nel dettaglio della norma ai fini della presente legge per l'agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli quindi parliamo di imprese agricole in forma singola associata e delle cooperative sociali con determinati requisiti che vedremo successivamente che cosa svolgono le fattorie sociali svolgono attività di inserimento sociolavorativo e qui c'è un passaggio importante cioè per chi conosce l'argomento le cooperative sociali oggi le categorie che vengono considerate svantaggiate per quanto riguarda le cooperative sociali sono individuate dalla legge 8 novembre del 91 la 381 del 91 la commissione agricoltura ha ritenuto di ampliare il numero di soggetti che possono essere considerati svantaggiati e quindi fa riferimento anche al regolamento comunitario 800-2008 in questo periodo di crisi in particolare alcune categorie che non necessariamente qualche anno fa venivano considerate svantaggiate oggi è più evidente che lo siano se noi pensiamo a un signore di mezza età che perda il lavoro chiaramente oggi vive una situazione di disagio che magari non immaginavamo potesse vivere qualche anno fa e così via tante altre situazioni che la crisi naturalmente ha fatto emergere svolgono prestazioni di attività sociali e di servizio per le comunità locali tra queste attività in particolare si fa riferimento all'accoglienza dei bambini in età prescolare quindi agrianido ed agriasilo quindi asili che siano presenti nelle aree rurali voi immaginate spesso le signore che magari lavorano in campagna hanno degli orari che non sono compatibili con gli asili comunali quindi il fatto di fare degli agriasili in delle zone rurali permette magari a delle signore che hanno degli orari di lavoro particolare di poter affidare i propri bimbi accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale fisica e psichica inoltre che cosa svolgono le fattorie sociali prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche psicologiche e riabilitative anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante quindi quello che viene normalmente chiamato ipoterapia pet terapia ortoterapia e via dicendo rientrano dalle attività dell'agricoltura sociale e ognuno di voi avrà avuto occasione nel tempo di leggere o di vedere che risultati eccezionali si ottengano nel rapporto con gli animali io quello che dico sempre è che al di là dei trattati clinici ognuno di noi se passa una giornata a contatto con un animale sicuramente è più sereno si è svagato e gli ha fatto bene quindi immaginate per una persona che magari ha maggiori difficoltà o immaginate l'emozione per esempio di una persona che è in serie a rotelle di essere su un cavallo e poter decidere lui in che direzione andare è una qualche cosa di sconvolgente in positivo per per chi non aveva mai avuto prima l'occasione di provare questo tipo di esperienza progetti finalizzati all'educazione ambientale alimentare e alla salvaguardia della biodiversità si prevede poi che con un decreto del ministero vengano definiti requisiti minimi e le modalità relative alle attività suddette noi abbiamo l'onore e la gioia di avere questo pomeriggio con noi il vice presidente della commissione agricoltura l'onorevole Fiorio che ci ha seguito moltissimo nella stesura del testo ha ascoltato spesso le nostre istanze onorevole io relativamente a questo punto ti pregherei di continuare a starci vicino e nel momento in cui dovrà essere prodotto il decreto ministeriale di assisterci per far sì che effettivamente il decreto ministeriale tenga conto di tutte le istanze che nel tempo abbiamo avuto modo di rappresentare alla commissione le attività questo è un punto molto importante soprattutto per gli addetti ai lavori le attività di cui alle lettere precedenti esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2335 del codice civile allora agli addetti lavori è una cosa importantissima e non addetti a lavori probabilmente è una notizia che induce sonnolenza però diciamo che per gli addetti ai lavori il fatto che le attività di agricoltura sociale siano considerate connesse di fatto è una cosa molto importante perché se non fosse stato così ci saremmo trovati nella situazione in cui qualcuno sarebbe dovuto venire col cronometro a misurare i minuti che lo psicologo passava con un paziente psichiatrico piuttosto che a misurare il tempo che ci voleva per svolgere determinate attività o doveva stabilire se assistere una persona appunto un educatore che raccoglie le olive con i ragazzi stia facendo un servizio sociale oppure stia facendo agricoltura quindi vi immaginate che complicazione di applicazione avrebbe avuto questo articolo risolve tutti quanti questi problemi quindi un'impresa agricola che svolge un determinato tipo di attività e attività connessa di diritto gli altri soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale sono le cooperative sociali purché in questo momento nella norma noi crediamo che sia questo passaggio un pochino articolato poi nell'applicazione quindi speriamo possa essere semplificato si parla di una prevalenza di fatturato quindi la cooperativa sociale che ha una prevalenza di fatturato agricolo diciamo operatore di agricoltura sociale inoltre queste attività possono essere svolte in collaborazione tra l'impresa agricola e le cooperative sociali l'impresa agricola con imprese sociali con le associazioni di promozione sociale e i soggetti di cui all'articolo 1,5 della legge 328 che sono una serie di soggetti che possono svolgere attività sociali di varia natura ci sono poi una serie di articoli che sono più di carattere tecnico questo è un passaggio importante gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori le organizzazioni di produttori che cosa sono sono delle organizzazioni che caldeggiate dall'unione europea nella quale gli operatori di un determinato settore che può essere l'ortofrutta piuttosto che un altro settore si mettono insieme perché unendosi hanno una maggiore capacità di penetrazione del mercato riescano a ottimizzare in modo migliori i costi e noi abbiamo proposto e la commissione ha accolto che potesse essere costituita un'organizzazione di produttori di agricoltura sociale per favorire l'aggregazione noi ci auguriamo che possano essere individuati dei parametri che rendino più facile l'accesso alla costituzione dell'OP oggi l'asticella è un po' alta bisogna avere un fatturato molto alto bisogna essere tanti associati eccetera l'agricoltura sociale diciamo ancora non sviluppata naturalmente come la zootecnia o l'ortofrutta che sono attività che hanno una storia molto più lunga e noi ci auguriamo che sia possibile prevedere di avere una sticella un pochino più bassa per permettere di partire con le organizzazioni produttori questo è un passaggio importante importantissimo i fabbricati fondamentalmente dice che i fabbricati agricoli possono essere utilizzati per sviluppare attività di agricoltura sociale in varie parti d'Italia nel tempo mi era capitato di assistere imprese agricole che saranno trovate nella seguente situazione andavano nel comune di riferimento chiedendogli di poter realizzare un centro di urlo un centro di formazione o qualcosa che fosse comunque collegato a una casa famiglia all'interno di un fabbricato agricolo e si vedevano negato il diritto perché il fabbricato era a destinazione d'uso agricolo e quindi non poteva essere utilizzato per altri scopi quindi un ostacolo enorme e la norma risolve questo problema e questo è un passaggio veramente molto molto importante per gli operatori gli interventi di sostegno allora investire in agricoltura sociale per il pubblico è un risparmio perché un paziente psichiatri in un centro di urlo costa 80 euro al giorno se quella persona non solo ha una rivoluzione positiva pazzesca nella sua vita perché a un certo punto scopre di saper fare delle cose e viene pagato per farlo la famiglia ha un un miglioramento incredibile perché chiaramente una persona più serena dentro casa migliora la serenità di tutta la famiglia ma è anche fonte di grande risparmio per il pubblico perché se appunto una persona che ha bisogno di un certo tipo di assistenza attraverso un percorso riesce a diventare autosufficiente riesce a diventare lavoratore non costa allo Stato quindi investire noi abbiamo delle esperienze bellissime di ragazzi che hanno iniziato un percorso all'interno di una fattoria sociale e sono arrivati ad un punto tale che hanno poi potuto aprire una propria fattoria sociale quindi a loro volta sono diventati non solo autonomi ma addirittura datori di lavoro perché avevano bisogno di sbloccarsi di risolvere evidentemente qualcosa che gli impediva di essere autonomi avevano bisogno di qualcuno che gli aiutasse a fare questo e la natura aiuta in mezzo alla natura nel lavoro agricolo si ottengono risultati che in altri settori sono insperati assolutamente quindi investire in agricoltura sociale è motivo di risparmio perché si risparmia su tante altre voci quindi la norma prevede che per esempio le menze scolastiche ospedaliere o è possibile prevedano dei parametri dei punteggi per favorire la fornitura da parte di fattorie sociali perché ogni anno in Italia si spendono centinaia di milioni di euro di alimentare e voi pensate se senza spendere una lira in più questi soldi venissero destinati a progetti di inclusione lavorativa quindi senza spendere una lira in più si otterrebbero dei risultati incredibili valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche quindi i mercati nell'ambito quindi anche per l'alienazione dei beni dei maniali e per l'assegnazione dei terreni confiscati alla malavita organizzata è previsto che le regioni promuovano i distretti di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale e anche questo è un passaggio molto importante perché creano attivazioni sul territorio e un altro passaggio molto importante è la creazione dell'osservatorio sull'agricoltura sociale oggi che cosa succede succede che magari vari settori della pubblica amministrazione riconoscano la bontà dell'agricoltura sociale ma si muovono autonomamente quindi non sempre si interfacciano tra loro e non camminano con lo stesso passo o adottano gli stessi parametri il fatto di creare un osservatorio di coordinamento ha lo scopo di far sì che tutto il settore si muova tutta la pubblica amministrazione si muova seguendo la stessa rotta adottando gli stessi criteri e quindi evitando che ci siano situazioni di conflitto tra le varie disposizioni normative ho concluso era l'ultima slide perfetto siamo stati nella perfetta assonanza grazie mille grazie grazie mille sì purtroppo c'è la variabile del tempo perché come avrete visto sono dei temi interessantissimi veramente oltre che affascinanti di grande concretezza e veramente di grande aiuto sia per chi ha dei disagi ma anche come diceva appunto il presidente di Stefano ha delle ricadute tra virgolette che diciamo gli austriaci gli economisti austriaci direbbero inintenzionali però sulla collettività in maniera importante passando diciamo allo spazio alle chiesistori quindi parliamo di aziende che sposano fanno proprio e mettono in pratica questi criteri di questa sostenibilità che stiamo imparando a conoscere meglio e quindi partirei con Raffaele Cirone che è presidente della federazione apicoltori italiani e ci anticipava prima di iniziare un po' il discorso sui percorsi formativi in apicoltura per detenuti che devo dire è particolarmente interessante e quindi gli cederei subito la parola grazie cercando sempre di contenere intanto 20 minuti e poi vediamo dopo di fare un giro nuovo se è possibile grazie allora vediamo se la presentazione può partire abbiamo un tricolore ok perfetto e dunque se di un merito possiamo parlare per raccontarvi di cosa siamo stati capaci noi apicoltori di organizzare all'interno della pubblica amministrazione ed in particolare utilizzando quella filiera zootecnica che viene detta minore perché all'interno del mondo agricolo in effetti questo è l'apicoltura rispetto a tutto il resto è quello di avere messo attorno ad un tavolo l'Unione Europea da una parte e a casa nostra il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero della Giustizia e in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per fare cosa? Per proporre dei percorsi formativi utilizzando l'APE all'interno della cinta muraria prima di entrare all'interno di questo percorso formativo vorrei dirvi qualcosa ma giusto di riferimento a proposito di quello che l'apicoltura è l'apicoltura vale in Italia rispetto alle grandi produzioni alle principali produzioni diciamo che è uno di quei settori dove come si dice a Roma ce l'abbattiamo discretamente bene rispetto a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea siamo collocati al terzo quarto posto un milione centomila alveari 75 mila apicoltori sicuramente la migliore produzione di miele su scala internazionale se non altro per quanto riguarda la qualità l'indice di professionalità in Italia è molto elevato le attrezzature di equipaggiamento di questa filiera specifica che è l'allevamento delle api fanno scuola nel mondo vengono addirittura esportate un po' ovunque sul pianeta e dunque noi all'interno della cinta muraria abbiamo proposto ai ministeri utilizzando uno strumento che è un regolamento comunitario specificamente assegnato all'incremento produttivo dell'apicoltura in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea dei percorsi formativi per i detenuti a fine pena una sorta di percorso premiale per chi domani scontata la pena si trovasse nella necessità di un reintegro sociale e questo è quello che ci troviamo a fare ormai da 16 anni a questa parte all'interno di qualcosa come 40 istituti penitenziari perché è corretto chiamarli così detto carcere non piace e portiamo dunque gli alveari vi assicuriamo che è qualcosa di abbastanza problematico ed inizia quel momento di incontro un po' come quando i bambini aprono i pacchi con i materiali di base per svolgere questo allevamento all'interno della struttura penitenziaria questi sono detenuti una piccola specifica non li vediamo in faccia perché è vietato quindi il ministero ci ha concesso l'utilizzo di queste immagini ma con determinate procedure autorizzative dunque arrivano le api si popolano gli alveari voi non potete immaginare cosa significa per un recluso partecipare a quella che prima era l'ora d'aria e adesso è diventata l'ora d'ape l'aspettano con grande grandissimo interesse con una motivazione che noi in 15 anni abbiamo potuto verificare come un incremento crescente di attenzione di impegno e anche poi di recupero perché è di questo che stiamo parlando qui vedete all'interno di una cella si scorge giusto in alto a sinistra quella che è un'inferriata di fatto un laboratorio allestito con attrezzature se volete minimali semplificate al massimo ma comunque efficiente di tutto punto capace dunque di dar luogo una volta realizzato tutto il percorso produttivo i corsi di formazione di cui vi sto parlando iniziano a primavera finiscono alla fine dell'estate e ci troviamo di fronte a dei telaini ormai fatti favi pieni di miele pronti per essere centrifugati il miele che spilla altro momento di grande entusiasmo perché in quel momento il recluso si rende conto avendo avuto cura delle api lungo il percorso formativo di mesi che ha fatto che qualcosa è successo ha rubato fiori oltre le mura e qui siamo sempre all'interno del piccolo laboratorio allestito ecco questa è un'idea però di quello che poi l'apicoltura in realtà conta voi immaginate che in Italia la nostra produzione lorda vendibile vale qualcosa come parlo di miele parlo di polline pappa reale tutte le cose che gli apicoltori riescono a mettere insieme fanno qualcosa come forse 25-30 milioni di euro di fatturato c'è un'inezia rispetto alle grandi filiere zootecniche le grandi produzioni agricole e alle grandi economie agricole però ecco il però l'apicoltura significa impollinazione in agricoltura i colleghi agricoltori sanno bene quanto è importante questo lavoro che l'APE svolge non solo oltre le cinta murarie ma addirittura nell'ambiente agricolo nell'ambiente in generale quindi il valore che noi incrementiamo ogni anno all'interno nel mondo agricolo in Italia supera i 2,5 miliardi in Europa raggiunge i 250 miliardi in sostanza l'agricoltura produce di più grazie all'intervento impollinatore delle api ecco qui vedete degli esempi di quello che poi è successo con gli anni e cioè dall'interno siamo arrivati all'esterno perché le cinta murarie non erano più in grado di contenere la dimensione produttiva che si era andata man mano incrementando e dunque ci sono state le autorizzazioni specifiche per uno spostare gli alveari oltre la cinta muraria e due concedere ad alcuni apicoltori più meritevoli che sempre detenuti erano di oltrepassare questo confine perché facciamo vedere questa isola di Pianosa così giusto per ricordare che il nostro progetto nasce proprio lì nel 1996 la direzione del carcere di massima sicurezza allora Pianosa si scontava il 41 bis quindi ergastolo mafia reati pesanti ci chiama perché alcuni alveari avevano come dire stavano sbandando diceva il direttore noi siamo andati lì a dare uno sguardo a cercare di rimediare rimediare a Pianosa è significato incontrarsi con questi grossi calibri del regime penitenziario che sono qui mimetizzati da tute di apicoltori e che comunque avevano grandissimo piacere di fare insieme a noi quello che poi il ministero della giustizia ci ha riconosciuto come un merito è incomiabile al punto da assegnarci un progetto che è partito nel 2000 e che ancora oggi dura cofinanziato appunto dall'Unione Europea e dagli altri due ministeri di cui vi parlavo una curiosità che cito per il mondo agricolo anche per i cittadini nel meeting è che in Italia i tenimenti agricoli dell'amministrazione penitenziaria a volte raggiungono delle dimensioni veramente molto molto ragguardevoli parliamo di aziende che hanno a disposizione migliaia e migliaia di ettari dove naturalmente non è che si faccia solamente allevamento delle api ma addirittura vera e propria zootecnia se non produzioni specializzate come in questo caso serre destinate ad ortofrutta e naturalmente e immancabilmente impollinate dalle api gli istituti penitenziari coinvolti dunque nel 2000 quando abbiamo siglato la convenzione con il ministero di giustizia politiche agricole d'accordo con l'Unione Europea erano 10 i carceri meglio direi mi correggo di nuovo gli istituti penitenziari sono diventati quest'anno 39 un po' in tutta Italia fanno eccezione solamente alcune regioni perdonate se le definisco tali minori come Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige Valle d'Aosta cosa curiosa ma non sorprendente per noi addetti ai lavori è che all'interno di questo grande alveare recluso che la federazione apicoltori ha messo in piedi nel sistema penitenziario dieci anni fa a malapena raggiungevamo la produzione di 3.000 kg di miele siamo arrivati a 7.500 kg di miele non è poco e soprattutto cosa curiosa di cui ho accennato prima che ci trovassimo qui al tavolo del convegno addirittura l'amministrazione penitenziaria fa vendita diretta o attraverso i mercatini di Natale o altre occasioni durante l'anno festive o addirittura attraverso un sito dedicato e quando si vende un chilo di miele prodotto dentro le mura tutto torna all'erario quindi è l'erario che incassa quei soldi poi ci sono dei casi molto particolari quindi la case history all'interno della case history come in questo caso ci troviamo in Molise dove dall'allevamento delle api siamo passati alla piccola falegnameria autorizzata dall'amministrazione penitenziaria in sostanza dentro la cinta muraria fanno gli alveari che poi gli apicoltori liberi e civili fuori dalla cinta muraria comparano come fossero produzioni ottenute normalmente il ruolo che abbiamo avuto nel promuovere tutto questo come un percorso di riscatto sociale pensiamo che sia un ruolo importante anche perché è antesignano di quella che oggi vediamo finalmente conclamata come l'agricoltura sociale che con il vostro permesso noi definiamo apicoltura sociale un altro dato e sono davvero in conclusione gli apicoltori fermati vanno a batterie di circa 500 l'anno che dall'inizio del progetto fanno un esercito apistico di circa 3500 apicoltori per avere un'idea come fosse la più grande associazione di apicoltori che abbiamo in Italia perché equivale a quanti apicoltori ci sono nella sola provincia di Bolzano dove 3300 apicoltori ci danno il piacere della melinda ogni volta che mangiamo una mela e pensiamo questo l'abbiamo potuto verificare ma ce lo dicono in particolare i feedback che raccogliamo poi dentro la struttura penitenziaria ce lo dicono gli educatori che davvero l'apicoltura come un po' tutti gli allevamenti animali si prestino un poco per far percepire al recluso cosa significa quel senso particolare di speranza che nella periferia del mondo quale il carcere certamente è necessita per poter sopravvivere in condizioni a volte non così particolarmente romantiche o bucoliche come quelle delle grandi aziende agricole penali che qui vediamo ancora fotografate e dunque fare apicoltura significa sicuramente stimolare e responsabilizzare i reclusi in un processo di rieducazione che poi noi abbiamo visto quando in particolare questi fine pena come li chiamano nel gerdo carcerario tornano in libertà e gran parte di loro essendo poi stranieri tornano a casa propria nei paesi dell'est europeo in particolare avere quel titolo che noi rilasciamo di formazione in apicoltura equivale a dire che si trova la certezza di un reintegro sociale dico una cosa in conclusione di quanto è importante l'impatto agricolo e ambientale che questo progetto ha conseguito negli anni perché siamo arrivati a coprire di sola superficie agricola 7.000 ettari di tenimenti agricoli appunto penitenziari ma un'area impollinata da questo grande numero di alveari che abbiamo messo in attività in produzione che è pari a 35.000 ettari quindi comunque un habitat davvero straordinario ed esteso io non ho altro da aggiungere se non ringraziare Confagricoltura che da nostra organizzazione di riferimento ci ha consentito oggi di portare qui questa esperienza e soprattutto collocarla in questa magnifica vetrina che è il meeting di Rimini grazie grazie molte anche a Raffaele Cirone veramente anche questo è un intervento molto interessante anche puntuale quindi veramente grazie e davvero insomma complimenti per il lavoro che fate e andando avanti parlerei di di reintegrazione del sociale di minori ed adulti e ce ne parlerà Aurelio Ferrazza dell'azienda Il Casale di Martignano appunto per approfondire il tema reinserimento e reintegrazione grazie buonasera a tutti mi associo anche io ai ringraziamenti per questo bellissimo convegno e ringrazio Confagricoltura di avermi dato la possibilità di venire qui e di descrivere un po' quello che si svolge all'interno della mia azienda forse per introdurre il mio intervento potrebbe essere interessante vedere le immagini del TGR ecco proseguo dopo il sonoro lo faccio io di un imprenditore sul lago di Martignano Rossella Alimenti un angolo di paradiso a soli 20 minuti da Roma è il lago di Martignano nella riserva naturale della valle del Baccano e per di più con un'anima solidale il Casale di Martignano con partner l'associazione Oasi del Borgo Ragazzi Don Bosco ha sperimentato una forma di aiuto attraverso l'apprendimento del lavoro agricolo per i ragazzi in difficoltà mi piace è un lavoro che mi cioè mi completa da molto abbiamo un contratto di circa sei mesi e con pure il personale ci troviamo molto bene e noi cerchiamo di ricostruire insieme a loro un tessuto di speranza cercando di alimentare giorno per giorno una crescita sana normale ma questo sogno è stato reso possibile grazie all'intuizione di un imprenditore lungimirante come Aurelio Ferrazza abbiamo in realtà scoperto cose molto più belle interessanti di quelle che immaginavamo stiamo vedendo anche un risultato estremamente positivo in termini di attenzione al lavoro di tutto lo staff interno all'azienda che collabora con questi ragazzi un esperimento che ha trovato applicazione anche grazie alla voglia di collaudare nuove soluzioni di integrazione sociale la nostra associazione Oasi ha cercato di innovare il modello di intervento assistenziale favorendo il rinserimento lavorativo vero l'agricoltura solidale è il cuore del progetto e il successo di questa iniziativa deriva dal fatto che si siano integrate le competenze di chi è esperto del mondo del sociale con il mondo dell'agricoltura ecco il mio intervento vorrebbe in qualche maniera affrontare il discorso dell'attività sociale all'interno di un'azienda agricola dal punto di vista dell'imprenditore l'azienda perché abbiamo visto bellissime cose bellissime possibilità che offre l'azienda agricola in diversi casi e soprattutto per certi tipi di necessità di riabilitazione il punto di vista dell'imprenditore ovviamente è il secondo il mio punto di vista come dire l'anello un po' più debole di tutta la la catena e la nostra scelta dico nostra perché l'azienda agricola che conduco la conduco insieme a mio fratello è stata abbastanza facile per il fatto che abbiamo un'esperienza di disabilità psicofisica in famiglia anche piuttosto grave quindi per noi il discorso sociale così come dire era abbastanza conosciuto e infatti l'intenzione mia di mio fratello era quella di riuscire a rendere fruibile e utile anche per nostra sorella l'attività agricola che svolgevamo e per questo volevamo impostare immediatamente un'attività di appunto tipo di fattoria sociale all'interno della nostra azienda fortunatamente ho conosciuto all'interno della famiglia con fabricoltura Marco Di Stefano che mi ha preceduto nell'intervento che esperienza del genere già l'aveva avuta come ha avuto modo di raccontarvi e ci siamo resi conto che non è una cosa così semplice improntare un'attività così complessa all'interno di un'azienda agricola che anche se è multifunzionale sociale ancora non è e abbiamo cominciato così con partecipare a un progetto del Comune di Roma che vedeva coinvolti appunto la rete delle fattorie sociali l'associazione Oasi come avete potuto vedere dal servizio e aziende agricole per questo motivo cercava questo progetto aziende agricole che fossero multifunzionali la nostra azienda agricola lo era facciamo attività di agriturismo abbiamo attività di allevamento di suini allo stato brado di pecore abbiamo attività di trasformazione interna quindi un caseificio aziendale un sarumificio aziendale un orto e anche la trasformazione in azienda abbiamo il contatto col pubblico essendo agriturismo abbiamo una spiaggia sul lago quindi anche attività come dire molto più semplici anche se ovviamente sempre correlate all'attività agricola e quindi la nostra azienda è stata come dire in qualche maniera scelta per collaborare a questo progetto i risultati che abbiamo che ho visto sono stati assolutamente superiori a quelli che potevo immaginare considerate che i ragazzi che sono stati coinvolti in questo progetto erano minori presi proprio dalla strada perché erano stati intercettati da centri di aggregazione del comune di Roma ma comunque ragazzi che durante la loro giornata non facevano praticamente nulla venivano coinvolti in queste attività del centro di aggregazione e poi nulla più immaginate che questi due ragazzi che inizialmente venivano accompagnati dai loro collaboratori in azienda nella prima fase che c'è stata di sperimentazione di orientamento al lavoro dove abbiamo fatto provare a questi ragazzi tutte le attività che svolgevamo all'interno dell'azienda quando è cominciato poi il loro contratto abbiamo fatto un contratto di tirocinio con questi ragazzi erano sono stati in grado per sei mesi di venire tre volte a settimana ora chi non conosce Roma è un po' complicato a spiegarlo ma comunque stavano esattamente all'opposto di dove è collocata vivevano esattamente in un luogo all'opposto di dove è collocata l'azienda quindi si svegliavano alle sei di mattina prendevano l'autobus prendevano la metropolitana scendevano all'ultima fermata della metropolitana prendevano un trenino e scendevano all'ultima fermata del trenino a nord di Roma prendevano una navetta che passava una volta sì una volta no genericamente ogni ora e si facevano se per caso non venivano intercettati da qualcuno di noi mio fratello o qualcuno dell'azienda che veniva a lavorare in azienda si facevano fino a tre chilometri a piedi per venire in azienda e per svolgere il loro lavoro questo per dire quanto un'attività agricola ovviamente seguita ovviamente filtrata per certe tipologie di persone possa contribuire a migliorare e a motivare persone con anche grossi problemi e accanto a questa esperienza che abbiamo avuto con questa associazione oasi del Comune di Roma abbiamo coinvolto nelle nostre attività lavorative anche un'associazione di ragazzi africani provenienti dall'esperienza di Rosarno tristissima esperienza e notissima esperienza di Rosarno che erano venuti a Roma e si sono aggregati per fare dello yogurt era un'attività che sapevano fare e inizialmente la facevano dentro casa utilizzando le borse dell'acqua calda per mantenere a temperatura il latte e ovviamente e vendevano questo yogurt casa per casa fino a che a un certo punto sono stati fermati gli hanno detto che se avessero proseguito così nessuno avrebbe più comprato da loro e ovviamente per motivi igienico-sanitari e allora abbiamo fatto questo accordo noi abbiamo messo a disposizione il nostro caseificio loro la loro capacità lavorativa e commerciale e abbiamo fatto un vero e proprio accordo imprenditoriale dove loro praticamente producono sia yogurt sia ci aiutano a produrre i nostri prodotti articoli noi mettiamo le nostre capacità le nostre macchine a disposizione e loro la loro la distribuzione quindi si occupano loro della distribuzione dei prodotti che vengono prodotti scusate il gioco di parole in azienda in tutta Roma anche questa è stata una esperienza enorme che mi ha fatto convincere sempre di più che lo ero inizialmente ma non riuscivo a percepire le potenzialità dell'agricoltura anche in questo settore mi sono reso conto assolutamente di quanto possa essere anche economico e vantaggioso per la società il coinvolgimento e la rieducazione di certi tipi di disabilità l'agricoltura ho parlato ho avuto modo di parlare con tantissimi operatori nel sociale i quali mi hanno descritto i costi un po' quelli che avevo accennato precedentemente Marco Di Stefano la società sopporta dei costi enormi per riabilitare persone e magari dopo percorsi lunghissimi e con scarsissimi risultati ripeto per la mia piccolissima esperienza ho avuto modo di vedere quanto invece il risultato ci sia stato in che brevità di tempo quindi è assolutamente un obiettivo che potrebbe essere raggiunto con molta più velocità per questo diciamo come al solito coinvolgiamo la politica nelle nostre conclusioni e io mi auguro proprio che oltre a questa modifica normativa che c'è stata questa nuova normativa che c'è stata sulle fattorie sociali io mi auguro che come l'agricoltura si riesca a riappropriare di tutta la tematica ambientale perché l'agricoltura in Italia in particolare è quella che ha plasmato l'ambiente così mi auguro che anche il sociale veda l'agricoltura come soggetto fondamentale per la riadeguazione di diverse disabilità e diverse problematiche che si hanno nella nostra società grazie 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 a loro per razza ci ha ricordato il rapporto un po' intimo tra agricoltura e ambiente chiaramente agricoltura e socialità dall'idea tradizionale del focolare chiaramente ci proiettiamo verso un futuro più innovativo ma tenendo conto sempre di questo legame molto molto forte passerei dunque all'ultima case history da analizzare oggi che riguarda l'azienda Borgoluce e dare la parola a dottoressa Maria Trinità Collalto per parlarcene grazie buongiorno sono veramente contenta di essere qui oggi ringrazio per questo invito che mi dà l'opportunità di parlare dopo che sono stati toccati dei temi così importanti e con delle testimonianze altrettanto importanti se possono partire le immagini ecco allora io parto da un presupposto diverso il sociale per noi è basato su un'attività agricola molto complessa ed è indirizzato a un pubblico più fortunato di quello di cui abbiamo sentito parlare cioè ai visitatori a chi vuol fruire della vita di campagna alle scuole e ai ragazzi che ci vengono a trovare e per raccontarvi come facciamo questo bisogna un attimo di introdurvi l'azienda che è in Veneto in una situazione geografica straordinariamente fortunata perché va dalle pianure lungo il Piave alle prime colline delle prealpi e con una distribuzione proprio orografica incredibile che ci permette di portare avanti ora come una volta tantissime attività diverse questo grazie anche a un'estensione notevole perché 1200 ettari in Italia accorpati non sono facili da trovare ecco che le nostre attività sono molteplici ma quando qualche anno fa con mio cognato Lodovico Giustiniani abbiamo voluto pensare alla nostra azienda che gestivamo e a pensare come questa sarebbe potuta essere fra 20 30 40 50 anni abbiamo visualizzato questo logo in cui questo sistema planetario vede proprio come pianeti quelli che riguardano l'energia l'ambiente e l'alimentazione questo fortemente radicato nell'attività agricole anche qui vedete che a noi piace questo discorso della circolarità perché vediamo come nella nostra azienda riusciamo a collegare sinergicamente tutti i nostri campi diciamo di attività agricola in maniera tale da ottimizzare le risorse e creare naturalmente un reddito evitare quanto più possibile gli sprechi nell'ottica che ogni cosa serva a qualcos'altro e qui vedete in questi cerchi sono tutte le cose di cui ci occupiamo ma di cui non voglio parlarvi adesso voglio solo farvi presente come da ognuno di questi cerchi si sviluppino proprio dei prodotti l'innovazione degli ultimi anni in agricoltura è stata proprio quella di completare le filiere di proprio esaurire proprio tutta la filiera all'interno dell'azienda arrivando a proporre sul mercato a proporre al pubblico il prodotto finito per cui dal vino il prosecco siamo nella zona di Ocg del prosecco ma anche per i cereali la farina di mais bianco perla abbiamo un allevamento di bufale con caseificio produzione di mozzarella e di altri prodotti ricotta eccetera eccetera in collina allevamenti di bovini di suini allo stato brado produzione di salumi di carni e altri prodotti minori la cosa bella però la cosa importante secondo noi è che tutto questo noi possiamo offrirlo direttamente e renderlo fruibile diciamo attraverso lo spazio aziendale in cui le persone possono venire e comprare attraverso un ristorante l'agriturismo che sono alloggi in cui le persone possono venire e importantissimo per il tema di oggi la fattoria didattica la dottoressa apriamonte diceva che spesso le aziende agricole già al loro interno sviluppano dei modelli di responsabilità sociale e questo è assolutamente vero nel nostro caso questo poi è abbastanza così naturale perché la nostra azienda agricola storica la famiglia con l'alto la cura diciamo da centinaia di anni per cui c'è un fortissimo radicamento anche nel territorio con le famiglie del territorio che magari da generazione lavorano con noi per il territorio per l'azienda e per cui per noi questi i concetti di sostenibilità sono abbastanza così naturali diciamo però se posso fare un passo avanti l'avere adesso focalizzato questo grazie anche al progetto di confagricoltura di EcoCloud avere veramente posto l'attenzione su cosa significa sostenibilità ci ha fatto capire come fosse possibile fare un passo ulteriore cioè la sostenibilità ambientale si è multifunzionalità biodiversità risorse rinnovabili ma è anche rendere tutto questo ambiente e un fonte di benessere per la comunità così come lo è intanto per la comunità della zona ma la comunità più allargata sapete come il Veneto è terribilmente urbanizzato industrializzato per cui questo polvone verde fruibile è una grande risorsa riconosciuta adesso dal territorio non solo dalle persone della zona avvengono anche da fuori veramente per godere dell'ambiente altro punto importante è quello della sostenibilità economica un'azienda agricola adesso fa una fatica tremenda ne parlevamo prima a fare un bilancio che sia positivo e il fatto di aver comunque voluto arrivare a chiudere delle filiere a presentarsi sul mercato ci ha fatto sì che potessimo anche pensare a nuove figure da introdurre in azienda con professionalità diverse e con grande gioia abbiamo visto negli ultimi anni ci abbiamo visto assumere molti giovani e anche molte donne che non era così automatico in agricoltura e pensiamo che anche questo abbia la sua valenza creare dei posti di lavoro per i giovani e per le donne che sono naturalmente più orientate verso le tematiche importanti oggi che sono quelle del mercato della comunicazione anche del packaging e tante cose per quanto riguarda l'aspetto invece più sociale è quello della la nostra volontà è quella di condividere il patrimonio culturale agricolo con quante più persone possiamo questo lo facciamo attraverso in varie maniere come vi dicevo l'agriturismo il ristorante la frasca e dando la possibilità di venire in azienda le aziende agricole una volta erano dei luoghi molto chiusi per un po' pericolosetti c'erano i trattori c'erano gli animali eccetera e noi tentiamo di fare in modo che questo sia il più aperto possibile che siano visitabili e siano fruibili e all'interno di questo un'attività che ci inorgolisce molto è quello della fattoria didattica la fattoria didattica non è una fattoria sociale ma è un luogo in cui le scuole i gruppi possono venire per avere la coscienza di quello che è il mondo agricolo possono venire per fare dei laboratori per toccare con mano quello che è un mondo che è ancora noto non so se anche in altre regioni d'Italia che ha ancora delle connotazioni negative di tristezza di sofferenza di lavoro ecco no quello che vogliamo dare come messaggio ai giovani è proprio quello che in agricoltura si può lavorare con moltissima soddisfazione facendo delle cose belle creando benessere creando dei prodotti assolutamente tracciabili e genuini e sappiamo quanta attenzione adesso c'è al prodotto che mangiamo cioè quello che ingeriamo deve essere assolutamente certificato tutto questo lo facciamo da anni con soddisfazione però se è vero da una parte che vogliamo che la cultura agricola non venga dimenticata per cui guardare comunque alle origini e alla nostra base culturale è vero anche che bisogna sempre stare nel mondo e guardare al futuro anche attraverso le opportunità che ci vengono offerte dalle situazioni contingenti e in questo caso per noi Expo 2015 è veramente un qualcosa di importantissimo perché voi sapete che i temi dell'Expo 2015 sono quelli che riguardano l'agroalimentare e soprattutto il prodotto agroalimentare visto però non solo come contenitore di caratteristiche organolettiche ma come un contenitore di tradizione di artineggialità di manualità e tutto questo lo si vuole raccontare ai visitatori di Expo a Milano ma noi lo vogliamo raccontare in campo cioè vogliamo essere la possibilità per le scuole di sperimentare in campo tutti quei temi che sono presenti in Expo ma che il Ministero della Pubblica Istituzione ha indicato come linea e guida nei programmi didattici dei prossimi anni cioè questi sono temi che vanno declinati in ogni disciplina ecco che il poter essere effettivamente esperienza in campo noi la vediamo come un'occasione straordinaria e però insomma noi siamo fattorie didattiche noi siamo Borgoluce però da soli questo non ha ovviamente nessun senso ed è per questo che con moltissima soddisfazione ho lavorato personalmente con la Regione Veneto e con le fattorie didattiche del Veneto perché questi temi fossero sviluppati da tutta una serie di fattorie didattiche ed è così che adesso abbiamo presentato l'ufficio scolastico un elenco di 40 fattorie didattiche dove ognuna con le proprie peculiarità le proprie caratteristiche i propri punti di forza potranno accogliere dal prossimo anno scolastico i gruppi di ragazzi per sperimentare in campo questi temi ci sembra che questo sia importante sia un'operazione culturale valida ripeto allargata a tutti in particolare dedicata alle scuole ma che sicuramente può avere un valore sociale alto ultimissima cosa ti lascio al didattica per cui parliamo di didattica didattica in fattoria ma nella Regione Veneto abbiamo fatto un passetto avanti ancora e cioè di unirci anche all'attività didattica nelle ville venete le ville venete al di là di palladio dell'architettura straordinaria e degli affreschi sono unità agricola culturale storicamente e per cui anche all'interno delle ville c'è molto da insegnare a livello di agricoltura e così abbiamo anche qui unito stimolato le ville venete perché sviluppassero questi temi expo per la didattica per cui adesso accanto alle fattorie didattiche abbiamo anche la didattica in villa questo è un'operazione così culturale che speriamo che venga recepita e che speriamo che possa essere anche un modello per altre regioni grazie grazie alla dottoressa Collalto mi è piaciuta molto la chiusura al riferimento alla cultura perché in realtà parliamo veramente di un'operazione culturale spesso si vive expo altri eventi iniziative se ne vive l'anima commerciale tra virgolette però c'è un'operazione culturale da fare l'azienda è un'azienda molto bella il progetto expo è un progetto importante e ambizioso e anche il riferimento che ha fatto la collaborazione con la regione mi è sembrato un bellissimo riferimento un bellissimo alla cooperazione e i risultati che può dare chiaramente l'intreccio tra azienda e istituzione venendo quindi agli sviluppi futuri darei immediatamente la parola quindi alle ultime battute conclusive del dibattito all'onorevole Massimo Fiorio che è vicepresidente commissione agricoltura della camera grazie io volevo fare un ringraziamento non davvero non solo di cortesia a Confagricoltura perché credo che il fatto che un'associazione con un orientamento e un'attenzione particolare alla dimensione aziendale imprenditoriale dell'azienda abbia colto nell'agricoltura sociale nell'aspetto della sostenibilità sociale una dimensione che va oltre quella della diciamo attenzione al settore sociale che a volte sfocia anche in un aspetto un pochettino soltanto o velleitario o fino a se stesso cioè aver capito che si sta aprendo in una dimensione sociale in cui la dimensione dell'impresa agricola ha un ruolo importante è davvero una novità il fatto che Confagricoltura l'abbia sposato ma anche con la giornata di oggi questa nuova apertura questa nuova porta che si ha per l'agricoltura io ritengo molto importante è un segnale dei tempi guardate mi è impressionato oggi una mostra che c'è qui al meeting intitolata dalle potature ai nuovi germogli se io volessi un attimino lo stavo pensando lo stavo declinando quel titolo di quella mostra rispetto all'iniziativa di oggi e alla questione dell'agricoltura sociale io credo che l'agricoltura sociale sia in qualche modo faccia suo quel titolo di quella mostra tutto quello che questa società in qualche modo ha pensato come un aspetto marginale una dimensione anche dell'individuo e delle persone marginalizzate in questa società invece renderli parte attiva e parte della dimensione aziendale imprenditoriale di un'azienda agricola è davvero una novità e credo che una novità naturalmente sui generis perché in realtà chi conosce che cos'è un'azienda agricola che cos'è una cascina lo diceva prima Maria Tigni da Collalto sa che dentro un'azienda agricola dentro una cascina nel tempo soprattutto in passato le relazioni solidali si sviluppavano in un modo tale che uscivano anche da quella che è la dimensione attuale della famiglia ma sapevano coinvolgere soggetti anche svantaggiati individui con difficoltà facevano parte del lavoro agricolo quello che attraverso l'agricoltura sociale si sta cercando di fare è recuperare quella dimensione è recuperare quell'aspetto che è connaturato di fatto all'attività agricola e che per uno strano caso probabilmente dovuto anche a quella che continuiamo a chiamare crisi ma che è qualcos'altro evidentemente è anche un cambio come dicono gli intellettuali un cambio del paradigma produttivo noi recuperiamo nell'azienda agricola nell'attività agricola qualche cosa che è sempre c'è sempre stato che per diciamo una deviazione della modernità abbiamo pensato fosse da superare no ricordare quanti osservatori economici sui giornali sui principali giornali economici ricordavano che l'agricoltura sarebbe stata sempre di più un'attività marginale di questo paese che insomma bisognava dedicarsi all'attività al terziario avanzato e adesso gli stessi osservatori economici dicono che invece il settore primario è importante che va recuperato e questo paese ha perso delle chance in quel senso probabilmente esageravano allora magari esagerano anche adesso anche perché quelli sono gli stessi però è vero che qualcosa è cambiato ed è vero che l'agricoltura ha recuperato una centralità non solo nell'economia di questo paese perché i dati sulla capacità produttiva del settore sulle performance commerciali ci danno in qualche modo ragione con tutte le difficoltà ne parlavamo prima con il vicepresidente e probabilmente dovremmo fare ancora delle battaglie anche politiche con questo punto di vista però una centralità anche rispetto a quello che è la dimensione sociale è stato rilevato prima nel primo intervento ma anche per quello che è stato detto negli interventi successivi l'agricoltura la sta riguadagnando guardate noi abbiamo pensato io sono il primo firmatario di questa legge sull'agricoltura sociale ed è nata attraverso un viaggio che il sottoscritto con alcuni colleghi ha compiuto per conoscere cosa fosse l'agricoltura sociale in questo paese e con l'idea così anche un po' avventurosa di capire se è possibile pensare un welfare uno stato sociale che non sia soltanto una dimensione assistita ma che abbia all'interno una capacità produttiva quando pensiamo alla riforma del welfare pensiamo anche a riformare quell'aspetto completamente assistenzialista quella visione completamente assistenzialista del welfare ma io credo che nel piccolo naturalmente rispetto alle dimensioni che ha rispetto a l'agricoltura sociale da questo punto di vista sia una grande opportunità lo è stato detto e questa legge in qualche modo cerca anche di andare in quella direzione cioè preservando la dimensione imprenditoriale dell'azienda agricola quindi preservando il fattore economico ma mettendolo a sistema anche con un altro mondo che è quello del sociale che è quello che si dà poi attraverso le istituzioni gli assessorati i distretti socioassistenziali i consorci socioassistenziali in modo da metterlo a sistema prima Marco Berardo di Stefano ha fatto un escursus molto approfondito della legge che naturalmente quando l'abbiamo pensata tra l'altro è la prima norma in agricoltura di questa legislatura di derivazione parlamentare siccome noi abbiamo un Parlamento che da anni che lavora attraverso la produzione legislativa del governo per ora questa è la prima che la Camera ha fatto per l'agricoltura ne arriveranno nei prossimi mesi anche altre e credo che rispetto anche ai discorsi che si sono stati fatti sia importante il fatto che noi sul tema della sostenibilità ambientale e sociale come Commissione di Agricoltura stiamo cercando anche di segnare un solco culturale arriverà in aula una legge sulla tutela della biodiversità entro ottobre stiamo lavorando a una legge sul consumo di suolo e a una legge sulla riforma del settore biologico quindi l'attività anche culturale della Commissione di Agricoltura da questo punto di vista sta rispondendo a queste esigenze di sostenibilità sociale e ambientale ma dicevo in quel viaggio l'intenzione del legislatore era uno di cercare di dare una norma quadro rispetto a una proliferazione anche legislativa regionale che consentisse di avere un riferimento nazionale generale finito ma naturalmente che non incidesse troppo sulle realtà esistenti perché ci siamo accorti che anche oggi a questo tavolo l'abbiamo visto le realtà e il fenomeno di agricoltura sociale è così ricco che qualsiasi norma nazionale rischiava in qualche modo di imbrigliare ostacolare quello che in modo naturale questo nuovo settore sta dando di innovazione di ricerca di coinvolgimento di soggetti deboli e svantaggiati per tanti motivi durante la discussione alla Camera noi abbiamo avuto anche elementi con qualsiasi legge naturalmente un elemento di dialettica e di polemica con altre forze politiche le quali ci dicevano vabbè ma riferimento al regolamento europeo 800-2008 è troppo largo per cui come dire voi tendete a coinvolgere una una gamma troppo larga di soggetti potenzialmente o svantaggiati in realtà noi abbiamo detto guardate spetta non tanto allo Stato ma spetta a gli enti di competenza locale gli assessorati distretti quello che è avviare progetti di collaborazione con le aziende agricole che in qualche modo decidono loro qual è il soggetto a cui rivolgersi se è un disagio psichico se è un disagio fisico se è un disagio sociale e quindi anche a quegli enti il coinvolgimento è stato messo messo a capo c'è un riferimento in questa norma che dice che gli enti preposti al socioassistenziale devono dotarsi di un piano di agricoltura sociale questo è già un passo oltre rispetto al punto di partenza da cui noi ci siamo avventurati quando abbiamo deciso di esplorare che è così l'agricoltura sociale abbiamo capito poco per volta che non solo poteva essere qualche cosa in più ma di fatto lo è già perché iniziative di collaborazione tra istituzioni e aziende agricole che sappiano coinvolgere soggetti svantaggiati e di disagio e che sappiano collocarli dentro una dimensione lavorativa e fattiva erano già avvenuti e questo è quindi portare questo elemento a sistema anche della dimensione socioassistenziale noi crediamo che sia un passo avanti lo diceva prima Marco Di Stefano se a un'ente a un'istituzione a un'ente proposto la collocazione di un soggetto svantaggiato costa in questo momento perché è soltanto parcheggiato lì a fare nulla costa quasi 100 euro al giorno collocati in una dimensione attiva fattiva di produzione e diventando esso stesso fattore produttivo costa molto meno ma costa non soltanto in termini di quello che produce ma costa in quello che è di guadagno per la sua dimensione esistenziale per il fatto che dentro l'attività agricola e soprattutto poi se andiamo a vedere quelle sono aziende che come si stava ricordando prima Maria Trini con l'alto sono aziende multifunzionali con produzioni differenziate molto spesso hanno a che fare con l'agricoltura biologica sono molto spesso produzioni a ciclo breve tutti elementi che sanno ridare una dimensione creativa a soggetti svantaggiati e sanno ricollocarli in qualche modo produttivamente dentro la società questo era il pensiero che ci siamo dati affrontando il tema dell'agricoltura sociale e che in qualche modo con tutte le difficoltà abbiamo cercato di portare a casa perché la battaglia poi dentro la ragioneria dello Stato dentro il Ministero dell'Economia per recuperare quelle poche risorse che consentissero di dare un po' di motore a questa legge è stata poi una battaglia ma Marco Di Stefano lo sa campale il fatto di averla riconosciuta come attività connessa è stato un altro fattore di guadagno importante noi pensiamo l'attività connessa finora l'abbiamo sempre solo pensata come l'agriturismo qui si apre una partita nuova io devo ringraziare da questo punto di vista Confagricoltura perché anche rispetto a altre associazioni ha saputo cogliere la sfida che c'è in questa legge che in qualche modo sa con tutti i rischi coinvolgere altri soggetti perché la questione sull'apertura alle cooperative di tipo B è una sfida anche dal punto di vista del confronto che si ha naturalmente questa è un'iniziativa che è partita all'interno della commissione agricoltura e naturalmente noi abbiamo tenuto fermo il fatto che è innanzitutto l'azienda agricola a fare coltivatività ma non potevamo non guardare il resto che viene avanti e il resto che sa anche produrre perché noi pensiamo che l'agricoltura non debba chiudersi rispetto a un modello ideale che è sempre stato così ma all'interno abbia le risorse e la capacità di andare avanti altri pensano che invece bisogna soltanto mantenere quello che si ha e io lo dico la prima battaglia quando aprì il discorso dentro la commissione di agricoltura era chi mi diceva no ma guarda che tanto c'è già l'articolo 2135 che ti dice cos'è la multifunzionalità che bisogno c'è di una legge sull'agricoltura sociale ma gli stessi che mi dicevano così allora sono venuti avanti hanno imparato che invece lì c'è anche una dimensione appunto impeditoriale che fa solo bene ed è un potenziale di reddito in più per l'agricoltura per l'imprenditore agricolo è qualcosa in più che si può dare non solo l'azienda ma la comunità rurale ne parlavamo prima noi non possiamo non dobbiamo dimenticare che questo è un paese fatto anche di piccole comunità che non sanno dotarsi di un sistema di servizi sociali penso agli asili penso a altre potenzialità ancora che magari l'azienda agricola può fare e può fare perché lo sta facendo in molte parti di questo paese noi non cerchiamo una dimensione velleitaria di agricoltura come dire bucolica perché innamorati di un'idea molto anni 60 su quello che è l'agricoltura noi pensiamo che l'agricoltura abbia forti risorse e l'agricoltura sociale sia una di quelle sfide da prendere da accettare fino in fondo e questo significa anche coinvolgere e avere la capacità di confrontarsi con altri soggetti non interamente deputati all'agricoltura in questo momento poi la soluzione normativa che abbiamo dato in realtà protegge molto l'azienda dà quella possibilità soltanto a cooperative che hanno certi requisiti e via dicendo io accetto non la provocazione ma il suggerimento di Stefano nel senso che credo che anche sull'organizzazione di prodotto noi dobbiamo fare un passo avanti l'ho detto prima non siamo riusciti a dotare di un fondo questa legge ma anche perché sinceramente non era nel nostro interesse fare una legge e poi come capitava una volta dotarla di un fondo che si esauriva come si esauriva ma dare degli strumenti perché questo nuovo settore avesse le gambe proprie per dare avanti e il tema dell'organizzazione di prodotto è uno di quelli che noi abbiamo individuato anche attraverso una discussione che abbiamo fatto perché abbiamo pensato se fosse prima il marchio se l'organizzazione di prodotto potrebbe essere la soluzione beh la soluzione normativa in questo momento sull'organizzazione di prodotto è effettivamente troppo pesante rispetto a quello che sono le aziende che fanno agricoltura sociale in questo momento credo che una correzione sia ancora possibile farlo però era importante che questo paese si dotasse di una legge di agricoltura sociale che adesso è una definizione di cos'è che evitasse anche delle speculazioni che in qualche modo sono a rischio perché guardate gli accordi di parternariato che questo paese ha contratto nella comunità europea e quindi una nuova fase di finanziamento comunitario aprono davvero delle possibilità nuove per l'agricoltura sociale non mi riferisco soltanto al PSR metto tutti in tranquillità mi riferisco ad altre dimensioni ma qui c'è una possibilità anche di attingimento a risorse importanti noi dovevamo tutelare chi fa onestamente agricoltura sociale e non soltanto chi magari apre la propria azienda una settimana all'anno alla visita o alla presenza di qualche progetto eliminare noi crediamo che questa debba essere l'azienda che fa agricoltura sociale debba essere un'azienda strutturata in grado di aprire delle collaborazioni con gli enti esistenti in grado attraverso il fatto di essere riconosciuto come l'Italia connessa anche di assumere personale naturalmente che non ha a che fare con l'agricoltura direttamente penso a psicologi penso a operatori del settore e via dicendo questa è la sfida che la politica in qualche modo ha fatto suo e che finora io credo abbia portato avanti con un certo successo grazie 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 al vicepresidente Fiorio diciamo negli scenari è una intenzione che ci fa ben sperare a questo punto passerei anche agli sviluppi che immagina il dottor Giovanni Festa che è direttore generale per il terzo settore e le formazioni sociali del ministero del lavoro per il suo intervento grazie cercherò di essere breve e ringrazio anche io il meeting e ovviamente Confagricoltura di cui porto con onore la spilletta sono state dette tutte le cose più importanti analizzerei due cose dette oltre l'importanza della legge si vede per esempio in un articolo in quello che è stato fatto dai legislatori nel quale viene fatto proprio un osservatorio sull'agricoltura un osservatorio che comprenderà diversi ministeri e questa è una cosa molto importante ci saranno rappresentanti di sanità di politica agricole di ministero del lavoro e viene fatto un lavoro di coordinamento che molte volte nelle amministrazioni manca quel lavoro che è stato fatto anche da noi accennato a inizio pomeriggio dalla dottoressa Biamonte e cioè il lavoro che ha portato al piano nazionale della responsabilità sociale d'impresa dove era già stata inserita si parlava di agricoltura responsabile la direttiva c'è anche una direttiva di immediata applicazione quella sugli appalti pubblici che è importantissima che è stata fatta a gennaio di quest'anno che allarga ancora di più le categorie della 381 che venivano ricordate prima e praticamente questa legge che è stata approvata la nostra qua che è stata approvata in un ramo del Parlamento quasi precede alcune delle cose che vengono dette perché finalmente viene cancellata la corsa al ribasso dei servizi per esempio che penalizzava ovviamente le cooperative penalizzava le persone serie perché per prendere un appalto bisognava tagliare del 70% i costi lo vieta e viene fatta invece e viene data una via preferenziale alle cooperative sociali e alle cooperative responsabili quindi anche l'agricoltura sarà aiutata da questa direttiva entro due anni dovrebbero anzi devono in questi principi entrare nel codice degli appalti in realtà parlando in commissione europea si potrebbero già applicare quindi se qualcuno li applicasse direttamente in un bando di gara non potrebbe essere contestato nei vari tribunali perché voi sapete che purtroppo in Italia c'è sempre questa cosa tutti sono bravi tutti sono vincitori e quello che perde purtroppo ha perso perché c'è qualcuno che frega quindi vengono intasati i tribunali per cause che a volte bloccano proprio l'attività economica l'altra cosa importante da dire è l'utilizzo del fondo sociale europeo prima parlava l'onorevole dei fondi che devono essere messi ha fatto un accenno in generale questi sono fondi che noi come direzione abbiamo già indicato nel nostro obiettivo T9 vi è proprio espressamente una linea di attività che riguarda l'agricoltura responsabile questo cosa vuol dire vuol dire che finiti gli accordi di partenariato quando arriveranno questi benedetti soldi indicativamente per quanto riguarda i temi di politica sociale riguardanti la direzione del terzo settore arriveranno 20 milioni di euro indicativamente che dovranno però essere impiegati nelle varie linee di attività i soldi del fondo sociale europeo come voi sapete non possono essere elargiti direttamente quindi devono essere fatti degli accordi con le regioni che poi successivamente saranno intermediari per poter fare dei bandi delle o organizzare degli interventi diretti che riguardino questa materia e le categorie che abbiamo detto prima quindi non so esattamente quanto di questi fondi potranno andare comunque è sempre meglio di niente perché c'era poco quindi se da pochissimo si passa poco già c'è stato un miglioramento è un tipo di è stata citata nella norma il chiaro riferimento all'impresa sociale che entra ovviamente quando invece si parla di agricoltura sociale anche su questo vi ricordo che c'è la legge di riforma del terzo settore e l'impresa sociale verrà rafforzata enormemente quindi la 155 verrà completamente cambiata ci sarà la possibilità di ammettere un relativo guadagno perché in una economia occidentale democratica è ovvio che al di là di giustamente di chi si impegna solo e esclusivamente per gli altri e questi sono poi quelli che diventano di solito santi o beati giustamente uno se ha già questo afflato verso il sociale gli si deve permettere di guadagnare almeno come se dovesse andare a mettere i soldi per un BTP non deve guadagnare come uno che li va a investire in azione ma almeno un minimo di guadagno per un imprenditore deve esserci quindi la norma sarà cambiata in questo senso e vi saranno delle risorse come sa bene l'onorevole c'è già un pacchetto generale per tutto il settore di 50 milioni di euro anche sull'impresa sociale ci sarà qualcosa sul fondo sociale europeo e qui l'agricoltura c'entra completamente quindi queste sono diciamo le tappe prossime future che riguardano l'impiego di questo tipo di denari che dovranno essere attivati abbiamo anche in mente di fare per la prima volta è stato inserito come organismo intermedio anche il ministero della giustizia con i soldi del ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno quindi date ho avuto occasione di parlare con il capo dipartimento con il direttore generale Serenella Pesarin che segue le persone i minori che sono in in stato di fermo quindi si farà un accordo anche con loro verranno dati dei soldi anche per l'utilizzo anche qui noi i soldi li abbiamo lei deve andare a parlare con le regioni cioè c'è questa cosa perché non è che uno può fare le norme sono fatte in questa maniera quindi anche lì ci sarà l'utilizzo di questo e poi l'importante iniziativa del social business initiative che è la task force guidata dalla Melandri che è stata nominata dal presidente del presidente del consiglio e confermata da questo che sta tentando di portare avanti nei paesi dell'ex G8 o raggi 7 una serie dell'utilizzo dei cosiddetti social bond cosa sono questi social bond in alcune realtà del mondo anglosassone pittsburgh in america è successo questo lo stato si è fatto garante nei confronti di imprenditori firmando una specie di contratto con il quale chiedeva agli imprenditori privati di mettere dei soldi per poter impiegare in attività le persone che erano trattenute in stato di fermo nelle carceri americane qualora nei successivi cinque anni la recidiva fosse calata del 5% questi avevano il capitale versato con un interesse del 5% ovviamente ci vogliono dei soldi di partenza che si sta cercando di raccogliere a livello di banche europee c'è da dire che fino ad ora le uniche che le hanno messe se non sbaglio sono Deutsche Bank e un fondo lussemburghese però questa iniziativa potrebbe sbloccare veramente la recidiva è calata del 10% quindi c'è stato un successo enorme quindi si sta cercando di portare avanti questa situazione il 15 settembre il rapporto finale è durato un anno e mezzo il lavoro del gruppo G7 sarà presentato in Italia dal ministro Poletti dalla Melanda e dal sottosegretario Bobba anche lì quindi ci sarà la possibilità di utilizzare questi soldi l'effetto e finisco benefico di tutte queste attività è già stato detto in precedenza una società civile deve chiaramente tutelare la società e quindi chi ha sbagliato deve pagare però chi ha sbagliato deve avere una seconda possibilità mi sembra che sia del tutto naturale quindi veramente non riesco a capire nel nostro paese a volte anche la normalità per fare questo questa è normalità è ovvio che se una persona viene impiegata a fare qualcosa di utile è molto probabile che non sta a parlare magari con quello che ti devi dall'altra parte perdendo tempo e pensando magari a immaginarie fughe oppure ad altri è evidentissimo è una cosa che ritengo così chiara che mi sembra che il lavoro fatto da chi fa queste cose da anni sia la pallissiano l'utilizzo di questo per far sì che le persone con disabilità vengano ad essere a sentirsi utili non solo a se stessi ma agli altri avete visto quei video che in parte mi hanno anche commosso cioè persone che invece di stare in istituti fermi a casa a vedersi magari la televisione e chiudersi in un mutismo anche io ho un caso di un figlio di una mia sorella che si è chiuso per esempio da sei mesi in un mutismo assoluto perché andava a fare lezioni di piano probabilmente lo psicologo dice che qualcuno gli ha detto o gli ha fatto qualcosa non apre bocca quindi pensate i drammi che ci sono all'interno di questo questo utilizzo penso agli agrinido cioè agli asinididi e poi ovviamente a tutta la catena che riguarda il consumo responsabile che deve essere chiaramente un consumo che vede la partecipazione chiara del cittadino e del consumatore tutte queste sono tutte cose che rientrano nel concetto di responsabilità sociale si diceva prima dell'ippoterapia io credo che non solo l'ippoterapia ma una persona diciamo normale nel senso che abbia sentimenti umanità un minimo di passione se passa una giornata in campagna fuori dai rumori penso che che ci siano animali o che ci siano solo piante o che si metta la penso che abbia un rientro anche psicologico e sto parlando delle persone cosiddette normali di gran lunga superiore e anche su questo a meno che ovviamente la persona non sia affetta da allergie a piante e a cose e via di esempio questo è evidente però se una persona va quindi a volte mi viene da pensare quando c'è la corsa all'agriturismo e basta di quello che va a pagare magari 200 euro per andare in mezzo a un casolare e ci sta anche quello per carità e magari invece se deve andare a passarsi una giornata a vedere queste attività oppure a fare queste cose magari ritiene di non doverla passare passare da qualche dù non l'avevo accennato prima semplicemente allo sfruttamento di tipo commerciale con l'agriturismo poi ultimamente ho visto delle cose impensabili non sono uscito credo sul Corriere della Sera della gente che paga 400 euro in un agriturismo perché c'è una cosa particolare e passare da questo tipo di attività che ripeto sono lecite a un tipo di attività che comprenda anche un comportamento sociale beh penso che sia un passo avanti quindi per una volta vorrei ringraziare i legislatori i componenti che si sono dati da fare per approvare questa norma sperando sorvegliate bene perché le amministrazioni di solito funzionano onorevole di solito però bisogna seguirle perché a volte per certi decreti attuativi bastano tre anni perché qualche d'uno magari è una cosa che non gli interessa la mette sotto oppure ci aggiunge qualche cavillo che poi è incostituzionale cavilloso via di sedo quindi queste cose vanno seguite nei gabinetti legislativi dei vari ministeri con grande attenzione vi ringrazio grazie al dottor Festa quindi passerei definitivamente la parola al vicepresidente Veggia che è appunto vicepresidente nazionale di confericoltura per le conclusioni di questo incontro direi molto interessante bene pochissimi minuti per trarre una conclusione intanto vi voglio ringraziare siete ancora numerosi vuol dire che l'argomento era interessante per noi di Confagricoltura che abbiamo voluto proporre questa giornata è sicuramente un ottimo stimolo vi porto i saluti del presidente Guidi che avrebbe avuto piacere di partecipare a questa giornata ma è stato convocato a Roma per un colloquio alla presenza dei ministri Martina e Padoan per la situazione critica che tutti voi conoscete per quanto riguarda la stesura dei conti per la prossima legge di stabilità il nostro presidente naturalmente come portavoce di Agri Insieme è a Roma a difendere gli interessi della nostra categoria però in questi ultimi anni con la presidenza Guidi abbiamo voluto dare una impostazione diciamo diversa all'azione della nostra organizzazione la storia ci ha sempre visti come in difesa delle istanze dei nostri associati ma soprattutto in un'azione rivendicativa riteniamo invece che le associazioni in questo momento di crisi debbano farsi portatori di un'azione propositiva e proprio in questa giornata si è visto come abbiamo cercato di portare all'attenzione di tutti delle esperienze veramente interessanti con delle aperture verso ciò che può fare l'agricoltura quindi contribuire a riportare l'agricoltura al centro dello scacchiere non dimentichiamo che il settore primario non per niente viene definito primario è stata l'agricoltura è stata la prima forma di attività organizzata stanziale quando si è passati dalla caccia alla coltivazione delle piante poi nel corso dei secoli è sempre stata l'attività principale degli uomini solo in questo ultimo secolo c'è stata una grande trasformazione che aveva quasi relegato l'agricoltura ad un'attività di seconda importanza non molto tempo fa anche noi nel mondo occidentale pensavamo che l'attività agricola fosse riservata ai popoli in via di sviluppo noi avremmo dovuto occuparci di cose più elevate tecnologia industria commercio servizi probabilmente ci siamo sbagliati il percorso inverso è già iniziato anche la giornata di oggi ci fa capire come la multifunzionalità dell'agricoltura vista in tutti i suoi aspetti è estremamente importante mi fa piacere che l'onorevole Florio che conosco da tempo perché siamo praticamente molto vicini anche territorialmente si sia attivato su questo disegno di legge noi di Confagricoltura siamo stati vicini vedo che lui è un po' stupito di questo a me fa piacere che abbia manifestato questa cosa perché mi permette di dirgli che Confagricoltura è a difesa del settore agricolo in generale non solo delle grandi aziende di tutte le aziende che vogliono fare agricoltura in modo competitivo accettando le sfide volendo progredire e non semplicemente pensando al passato non abbiamo una visione minimalista non pensiamo all'aspetto semplicemente bucolico a noi interessa il concetto di sostenibilità di sviluppo sostenibile ci interessano i tre fondamenti quello ambientale quello sociale non dimentichiamo quello economico perché se una cosa non si può sostenere economicamente non ha lunga durata in questi ultimi tempi il concetto di sostenibilità si è allargato se ne parla sempre di più dall'Unione Europea ci arrivano indicazioni come la sostenibilità deve tener conto anche delle innovazioni tecnologiche dell'inclusione dell'inclusività di aree marginali in questo caso abbiamo parlato dell'inclusione di soggetti che hanno qualche difficoltà all'inserirsi nella società e abbiamo visto delle bellissime esperienze che ci hanno fatto capire la grande potenzialità dell'agricoltura l'onorevole Florio ha anche fatto riferimento ad una mostra che ho visto anch'io quella della potatura del germoglio molto bella e vorrei agganciare ad uno dei case history di oggi quella di Aurelio Ferrazza in questa mostra viene spiegato come dalla potatura che è un momento di sofferenza della pianta vengono fuori i germogli l'esperienza della famiglia Ferrazza che ha vissuto come spesso capita nella vita purtroppo un momento di difficoltà e di sofferenza si è visto come si può reagire in modo positivo inventandosi delle soluzioni che non solo permettono di superare nel proprio ambito familiare il momento di difficoltà ma servono grazie a queste giornate di comunicazione a dare spunti anche ad altri che possono quindi avventurarsi con un po' più di coraggio nell'affrontare le nuove sfide le nuove sfide ci aspettano la crisi sappiamo che vuol dire difficoltà sofferenza ma c'è anche un aspetto positivo che vuol dire nuove opportunità queste nuove opportunità ci aspettano noi dobbiamo avere il coraggio di affrontarle sicuramente anche l'aspetto di Expo 2015 ci darà una grande opportunità noi dobbiamo essere in grado di comunicare al mondo come nel nostro paese siamo in grado di produrre prodotti di altissimo livello il settore agroalimentare produce il 17% del PIL quindi è una cosa assolutamente importante ma non solo prodotti di grande qualità ma anche prodotti che derivano da un da un settore che ha una particolare sensibilità verso tutti gli aspetti si parlava prima di produzione del valore non solo del reddito il reddito lo si misura ci sono dei numeri c'è il simbolo dell'euro vicino il valore non ha un'unità di misura è una cosa relativa noi di Confagricoltura riteniamo che la produzione del valore sia molto importante e quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa giornata voglio ringraziare anche ai funzionari di Confagricoltura che hanno lavorato sodo faccio un nome per tutti rotundo donato rotundo tra l'altro ricordo che ci sarà un piccolo rinfresco adesso al nostro stand e voglio concludere con una massima che non è mia ma che mi piace ricordare che fa riferimento al bene che noi agricoltori al quale noi siamo particolarmente attaccati non solo per motivi di reddito ma anche proprio di passione e della terra ecco dobbiamo vedere questo bene non tanto come una cosa che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri ma piuttosto come un bene che abbiamo ricevuto in prestito dai nostri figli grazie 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 a tutti grazie a tutti